Let's go! Qual è la novità che presentate oggi alla fiera? Allora, le novità sono tantissime. Innanzitutto è una forma di innovazione anche da un punto di vista didattico e del modo di lavorare sulla parte di education, quindi di lavoro sul fitness funzionale proponendo diversissimi programmi di lavoro. Le novità sono ovviamente alcune differenze di lavoro sul Total Gym che fa un lavoro funzionale dal 1974, sui Medibo che sono questi cuscini che voi vedete che lavorano sulla parte di equilibrio e sulla parte proprioccettiva e il Coretex che è una pedana con un livello di impatto e di impegno molto interessante sull'equilibrio e sulla parte proprioccettiva. Ci occupiamo quindi di programmi che vanno, come dicevo, dal lavoro funzionale al Pilates, alla post-riabilitazione e quindi la novità secondo noi sono i concetti di lavoro la pulizia e la profondità di concetti che vengono presentati sul Total Gym, sul Medibo e sul Coretex. Questo è un po' il nostro trend dal 1974, quindi la qualità e non la quantità.